Com'è andata? Speriamo bene, a parte storica erano delle domande un po' insolite, il resto credo bene. Quindi adesso vi aspetta l'orale? L'orale sì, purtroppo, però il grosso è andato. Sei ottimista anche tu? Sì, diciamo di sì. La prova di stamattina era... Sì, pensavo peggio in realtà, è andata bene, erano facili, era fattibile, quindi tutto bene. Adesso gli orali c'è da studiare? Eh, abbastanza, però vabbè, almeno ci riposiamo un attimo, io ce l'ho il quattro, quindi un po' di tempo per respirare, dai. Era difficile? Sì, molto difficile, soprattutto filosofia e inglese, non ce l'aspettavamo così, però vabbè. Tra l'altro ci hanno appena detto che è andato male anche il latino nella nostra classe, la seconda prova, quindi affronteremo l'orale con grande voglia e determinazione. Insomma ci sarà a studiare un po' di più? Eh, molto di più, a quanto pare. Com'è andata? Ma speriamo bene, dai. Era un po' difficile la parte di scienze, ma speriamo in un 10-11, non so.